abbiamo lavorato tantissimo in questo in questo periodo di pausa quindi sono ultra soddisfatto perché le ragazze hanno messo in campo tutto quello che abbiamo provato grande intensità tatticamente penso che eravamo messe bene in campo finalmente raccogliamo quello che meritiamo andiamo cauti perché anche oggi per fare gol ci sono volute 10 palle gol forse quindi deve girare oggi finalmente a fatica siamo riusciti a farla girare speriamo di continuare così si dobbiamo lavorare non c'è altra strada lo dico dall'inizio dell'anno il lavoro prima poi ripaga oggi raccogliamo tre punti meritati ma dobbiamo lavorare perché la strada è ancora molto in salita i complimenti vanno fatti alle ragazze perché senza di loro l'allenatore può fare quello che vuole sono contenta che siamo un'unica cosa mi sento un'unica unità con loro ma i complimenti vanno fatto alla società alle ragazze o cerco di fare del mio meglio ma lavoro per loro